Benvenuti ai nostri cari follower, quindi un avvertimento molto severo e urgente in Italia, a partire da domani mattina, lunedì 28 agosto 2023. Ma prima di entrare nei dettagli, spero che tutti voi condividiate questo avvertimento con quanti più italiani possibile, per evitare perdite materiali e umane a causa del pessimo tempo, se, come previsto, un uragano molto forte dovesse colpire l'Italia, a partire dalle prime ore dell'alba e di domani mattina, lunedì. Questo uragano sarà molto pericoloso e sarà accompagnato da una fortissima precipitazione di grandi chicchi di grandine, che potrebbero causare gravi danni alle automobili, alle fattorie e persino alle case. Inoltre, C, sarà il rischio di allagamenti, il pericolo degli uragani, secondo i dati a nostra disposizione. E dopo abbiamo appreso dell'ultimo aggiornamento del modello europeo. Le regioni del nord e del centro Italia saranno in allerta rossa. È la prima classe di pericolo di tempesta molto forte. Trasformarsi in un uragano da un momento all'altro. Questa tempesta avrà come centro le coste della Liguria, girerà in senso anti-orario ad una velocità spaventosa e domani raggiungerà tutte le regioni del nord e del centro Italia. Invitiamo pertanto tutti i residenti alla massima cautela al fine di evitare il verificarsi di eventuali disastri. Stiamo seguendo tutti i nuovi aggiornamenti, momento per momento, e qualsiasi altra novità importante che cercheremo di fornirvi in seguito. Finalmente sei in buona salute.